Nuova giornata di acquisti per il nostro Fuzzimib, rialzo dell'1,02% a 23.390,95 punti. All'interno del comparto finanziario segnaliamo la nuova seduta in positivo per le azioni Nexi, più 2,45% spinte dall'ipotesi di fusione con SIA e Unicredit, più 3,17%, che ha siglato un accordo vincolante con la banca Lettone, Cittadele Banca, per vendere il 100% di SIA Unicredit Leasing e della controllata SIA Unicredit Insurance Broker. Calo a 160,5 punti base per lo spread meno 1,5%.